Salve a tutti, oggi farò degli investimenti con la nuova tecnica. Allora, io ho investito su l'euro yen perché stava salendo, sempre con una scadenza di 20 minuti. Adesso investo sull'euro USD, sempre con una scadenza di 20 minuti, sono le 12.26 alle 12.45. Metto sempre il minimo importo di 25 euro e compro. Allora, guardate, io sto vedendo i grafici multipli che stanno sul mio sito. Allora, faccio prima gli investimenti per non perdere tempo e dopo vi faccio vedere i grafici. Allora, su pure euro GBP sto investendo altri 25 euro. Allora, vedete un poco. Vediamo un poco che sta succedendo. Allora, l'euro USD sta andando a rialzo perché questa media di 40 periodi è fatta da supporto e resistenza. Anche l'euro GBP sta salendo perché, vedete, la candela ha attraversato dal basso verso l'alto la media a 40 periodi. Quindi, si sta rialzando, anche se il parabolic SAR indica ancora un ribasso, non fa niente perché la media a 40 periodi molte volte è forte. Poi, l'euro Yen si sta rialzando. Allora, io ho preferito investire sempre sull'euro perché, per le correlazioni tra valute, se si alza uno, si alzano pure gli altri. Quindi, potete investire contemporaneamente su più asset. Allora, sono le 12.28. Alle 12.45 mancano circa 17 minuti ancora. Se, nel caso, gli investimenti dovessero andare male, io recupero con le 60 secondi. Però, io le 60 secondi non le consiglio a tutti. Anzi, particolarmente ai principianti consiglio di iniziare con queste tecniche. Perché dovete imparare soprattutto la disciplina e la pazienza. Invece, con le 60 secondi, queste cose non si imparano. Le 60 secondi sono una cosa successiva. Prima si utilizzano e si fanno esperimenti con queste tecniche. Allora, ho investito su euro GBP, euro USD e euro Yen. Adesso stanno andando tutte e tre al ribasso. Però, io ho fiducia e quindi aspettiamo. Manca ancora un quarto d'ora. Io riprenderei l'euro GBP perché si è riabbassato di molto. E comunque investirei altri 25 euro. Perché comunque sono sicura che si rialzerà. Quindi ho fatto quattro investimenti da 25 euro. Purtroppo, molte volte, il Parabolic SAR non è così veloce a segnalare l'inversione di tendenza. Però, è appunto per questo ci dobbiamo affidare alle medie mobili. Che molte volte si comportano come supporti e resistenze. In questo caso, la media mobile per l'euro USD si è comportata da supporto. Allora, l'euro GBP ha ripreso. Se siete alle prime armi e non volete fare tanti investimenti, ve ne bastano uno o due al giorno. Non dovete per forza fare tanti investimenti. E soprattutto, non dovete badare al denaro. Ma dovete badare ai grafici e all'investimento. E se siete bravi nel prevedere. Si diventa bravi soltanto studiando molto. Allora, io andrei nei 60 secondi per fare qualche piccolo investimento. Allora, sono andata sul petrolio. E investirò sui supporti e le resistenze. Sempre il minimo di 25 euro. Come vi ho detto, le 60 secondi sono difficilissime. Quindi, quello che vi conviene fare è iniziare da quelle a lungo termine. Per poi, magari, specializzarsi nei 60 secondi, se volete. Allora, io aspetterei affinché il prezzo si rialzi per investire al ribasso. Allora, sì. Adesso sta andando al ribasso e io vorrei comprare. Ho comprato al ribasso. Vediamo un po'. Allora, si sta rialzando in questo momento. Allora, riprendo l'investimento del petrolio. Si è rialzato. Metto 50 euro. E attendo. Allora, riprendo. allora il primo investimento da 60 secondi è andato male io investirei per il ribasso queste 50 euro per vedere di recuperare le 25 come vedete tutti gli investimenti stanno in rosso ma io ho fiducia che ritorneranno in verde dovete avere fiducia in quello che fate e non vi dovete far prendere dal panico se pensate di aver sbagliato la direzione potete anche chiudere la posizione questo vale per le scadenze più lunghe, non per le 60 secondi allora sta salendo, sta scendendo, scusate il petrolio sta scendendo quindi 210 l'ha preso quindi ho recuperato quelle 25 euro allora gli altri stanno ancora in rosso vediamo un po' allora si sta fermando il tutto l'euro usd sta andando a rialzo a rilento come l'euro yen l'euro gbp sembra che voglia scendere allora mancano 9 minuti e 40 alla scadenza di queste opzioni allora vediamo l'euro yen che si sta riprendendo infatti sta salendo ed è in verde l'euro yen che si sta riprendendo l'euro yen che si sta salendo l'euro usd si è un po' fermato e l'euro gbp sembra che stia scendendo andiamo di nuovo sul petrolio a 60 secondi e faccio un altro investimento se volete potete aprire i grafici per rendervi conto della direzione adesso si trova in una posizione di stallo però sembra che voglia salire io ho comprato per l'alto e vediamo allora sta andando in alto 30 secondi scaduto ok è andato bene questo investimento sul petrolio adesso guardiamo gli altri allora mancano 6 minuti e 24 euro iene euro sd sta andando bene allora euro gbp pure il secondo vediamo se alla fine riesce a prendere anche il primo mancano 6 minuti alla scadenza come vi ho detto ero fiduciosa che ritornassero in verde se non siete sicuri degli investimenti che fate basta che ne fate uno due al giorno con questa piattaforma potete anche chiudere la posizione nel caso non siete sicuri della direzione quello che dovete studiare di più è il trend allora vedete l'euro sd sta andando a rialzo l'euro yen e l'euro gbp hanno ripreso a rialzarsi mancano 5 minuti vediamo se l'euro gbp pure preso a un prezzo più alto a 878 riesce anche a rialzarsi mancano 5 minuti più o meno alla scadenza vedete i minuti li potete vedere anche da qua siamo alle 12 e 40 alle 12 e 45 c'è la scadenza la scadenza vediamo questa può darsi che riesce a prendere pure questa ecco è andata in verde pure questa mancano 3 minuti sta salendo come previsto quindi tutto quello che dovete fare è prevedere come potete vedere questi investimenti sono più controllati e meno stressanti di quelli a 60 secondi quindi io ve li consiglio vivamente dato che ci sono delle tecniche abbastanza buone allora vediamo tutti e quattro sono in verde quindi stanno andando a rialzo mancano 3 minuti ok quattro dipendini parte 2 minuti e mezzo 2 minuti alla scadenza 3 minuti alla scadenza 1 minuto e mezzo circa 1 minuto e 20 1 minuto e mezzo circa 40 secondi alla scadenza 30 1 minuto e mezzo circa si vedete tutti e quattro sono scaduti e sono andati bene anche se all'inizio sembravano andassero male vedete come si sono rialzati alla fine la mia previsione era giusta facciamo alcuni conti con la calcolatrice oggi è 30 dicembre ho fatto 1,2,3,4,5,6,7 investimenti ai quali soltanto 1 l'ho perso quello a 60 secondi il più rischioso quindi vediamo 31,50 euro coi primi investimenti col primo meno 25 che ne ho perse più oggi oggi danno nei 60 secondi danno il 63% quindi più 15,75 euro perché quando è festa di solito danno di meno più l'euro yen più 18,50 euro sempre perché è festa se no di solito danno l'80% su questa piattaforma più 18,75 euro più 17,50 euro più 17,50 euro quindi un guadagno totale di 94,50 euro investendo nei 20 minuti ho fatto solo 3 operazioni con i 60 secondi cordo del mio sito www.opzionibinaria60secondi.it vi faccio vedere da dove ho preso i grafici dovete andare nella sezione grafici e all'ultimo blocco ho scritto grafici tecnica 20-30 minuti con media a 40 quindi di qui ci sono tutti i grafici multipli che volete e poi potete andare a visionare la tecnica qui ci sono grafici di altre tecniche sempre grafici multipli per chi volesse investire su più asset se no vi conviene aprire il grafico unico e settarlo con la tecnica e aspettare poi invece qui ci sono le piattaforme io ho utilizzato la piattaforma della 24 option quindi qua c'è il link per potervi iscrivere su questa piattaforma danno il demo se vi iscrivete dal mio link danno il demo o il bonus o potete chiedervi chiedere vi mettete d'accordo con loro quindi allora qui c'è la piattaforma qui ci sono altre tecniche e strategie non le ho messe tutte quelle che stanno su youtube però vi potrebbero essere d'aiuto sono suddivise in 30 secondi 60 secondi 5-10 minuti 10-15 minuti 20-30 minuti questa ancora non l'ho messa strategia 1 ora e poi ci sono due tecniche per il forex poi qui c'è la sessione articoli dove ci sono degli articoli che potete scaricare che vi conviene leggere per la vostra cultura e il vostro apprendimento e qui ci sono i miei ebook i miei ebook per chi volesse iniziare a investire con le opzioni binarie può iniziare dal primo ebook investire in opzioni binarie dove ho fatto una seconda edizione che è molto più ampliata quindi basta che vi comprate un ebook un solo ebook e già siete in grado di conoscere le basi dell'analisi tecnica e poter leggere i grafici e le tecniche che io propongo su youtube quindi potete iniziare già leggendo questo libro potete iniziare ad allenarvi ci sono anche delle tecniche per principianti che io consiglio di utilizzare poi c'è piano d'azione per le opzioni binarie che è un ebook con delle tecniche e come costruire un piano di trading per investire nelle opzioni binarie quindi in questi ebook ci sono delle tecniche per coloro che vanno in cerca di altre tecniche oppure ci sono le grandi teorie per investire nelle opzioni binarie dove c'è la teoria di Dow, di Fibonacci e di Elliot ed è spiegato come si applicano anche nelle opzioni binarie c'è anche il capitolo che parla delle correlazioni un capitolo molto importante dove potete investire su più asset contemporaneamente e io vi ho fatto vedere che ho investito su tre asset contemporaneamente appunto per le correlazioni poi soluzioni pratiche per le opzioni binarie è un ebook pieno zeppo di tecniche quindi per chi andasse a cercare la sua tecnica migliore perché ognuno di noi si trova bene con una tecnica diversa la tecnica non è una ma le tecniche possono essere molte l'importante è che ognuno si debba trovare bene e c'è un capitolo che parla dei gap che cosa sono i gap e come si utilizzano poi c'è Fibonacci nelle opzioni binarie è un ebook dedicato a Fibonacci che parla dei ritracciamenti, delle falline, del calcolo dei target price ma parla anche di argomenti correlati come le trendline e i supporti e le resistenze spiegate in maniera dettagliata qui potete scaricare dei video che vi fanno vedere come settare i grafici e come utilizzare le tecniche descritte in questo ebook e poi c'è il mio ultimo ebook le migliori tecniche per investire nelle opzioni binarie volume 1 dove ci sono le tecniche migliori che mi hanno dato più risultati e quindi ci sono anche delle tecniche giornaliere che io consiglio a tutti perché se siete dei principianti è meglio investire con tempi più lunghi per poi magari accorciare i tempi ci sono tecniche che parlano dei pivot point di che cosa sono i pivot point e poi c'è l'ultimo capitolo che parla degli orari di trading che cosa sono e perché si investe in certi orari dove si possono fare dei guadagni migliori di quando si investe in orari non adatti allora per oggi vi ho detto tutto quindi ci rivediamo nel prossimo video spero di esservi stata d'aiuto con questo investimento a 20 minuti quindi voi potete investire su più asset contemporaneamente l'unica cosa è che dovete avere pazienza però queste tecniche sono consigliabili a chi sta iniziando e anche a chi non sta iniziando sono tecniche molto più stabili naturalmente di quelle a 60 secondi vi ringrazio per la vostra attenzione e ci rivediamo al più presto con un prossimo video